Le classifiche nazionali e regionali non rendono giustizia alla bella Sicilia. Ecosistema Italia la boccia facendo piazzare agli ultimi posti anche in Ragusa ed etichettando Palermo come la città peggiore d'Italia. L'indagine sulle polvere sottili, la raccolta differenziata e le politiche energetiche realizzate da Legambiente sulle 24 ore fanno del capologo Ibleo, Agrigento, Trapani e Enna ultima in Italia per raccolta differenziata con l'1,1%, le città meno virtuose dal punto di vista dell'ecosistema urbano. Secondo lo studio in generale i capoluoghi di provincia vivono una fase di stallo per qualità ambientale, per i rischi legati alla cattiva qualità dell'aria, per la congestione del traffico o perché le abitazioni sono costruite male o nel posto sbagliato. Sulle case e i monumenti spunta anche una blacklist a Ragusa Ibla e a rischio il convento di Santa Maria di Gesù, l'iniziativa di salvaguardia dei beni sarà infatti avviata con Salva l'Arte Sicilia che si svolgerà a novembre con la campagna di sensibilizzazione SOS Heritage, la bella Sicilia che sta scomparendo, con protagonisti cittadini che segnaleranno i previventi siti da salvare. Tra monumenti da salvaguardare ed ecosistema bocciato sempre nel capoluogo, in salita sono invece i prezzi degli immobili con un più 0,6%, Palermo la più cara, mentre la più economica è Caltanissetta. A rendere noti in pilole i dati è uno studio di Immobiliare.it che ha fotografato l'andamento del mercato immobiliare nel terzo trimestre del 2011. Le città più costose per chi vuole comprare appartamenti restano Palermo e Catania. L'indagine ha anche coinvolto un campione di Ragusani, i quali hanno riferito che l'aumento dei prezzi corrisponde ad una minore fiducia. e la Sicilia sta seguendo questo trend.